La curva dei contagi Covid continua a salire anche in Abruzzo, spinta dalla diffusione delle sottovarianti Omicron 4 e 5, che sono rispettivamente al 27,5 e al 17,5 dei casi, ma con un trend in aumento. In una settimana i positivi sono nettamente aumentati rispetto ai sette giorni precedenti. Nell'ultima indagine sulle diverse varianti del SARS-CoV-2 presenti in Abruzzo condotta dall'IZS, sono cresciuti i casi riconducibili a diversi subligneggi che si stanno espandendo su tutto il territorio nazionale e non solo. Mi spiace dire che la pandemia non è finita, tant'è vero che ci sono in questo momento casi in aumento, quindi l'incidenza della pandemia sta aumentando, diciamo così. In Abruzzo, ovviamente, essendo un estratto dalla panoramica nazionale, abbiamo anche qui dei casi da segnalare, sostenuti da diverse varianti, oddio, sostenuti da una variante, in particolare la variante Omicron, con i suoi subligneggi. Quindi possiamo dire con assoluta certezza che tutti i casi di Covid in questo momento segnalati in Abruzzo sono sostenuti dalla variante Omicron con i suoi lineaggi che, vogliamo dare dei numeri, sono principalmente la BA2, quindi la variante 2 della Omicron e poi in aumento ci sono le varianti 4 e le varianti 5. Fatto sta che comunque, ricordiamoci sempre, che la vaccinazione rappresenta sempre lo schermo fondamentale, lo scudo fondamentale per contrastare gli effetti gravi di questa infezione. Rispetto alla variante Delta, che è stata forse quella più virulenta, diciamo che la variante Omicron è molto meno cattiva, mi passi il termine, anche se non è totalmente corretto dire così. Fatto sta che comunque in Italia abbiamo ogni giorno un numero di persone che muoiono a causa del Covid, quindi, diciamo, da punto di vista quasi scientifico potrebbe essere accettabile, nel senso che abbiamo un numero basso e tant'è vero che ci siamo quasi abituati a questo, purtroppo a questo bollettino. Fatto sta che da punto di vista, diciamo, etico e da punto di vista, diciamo, umano, vedere ancora tanti morti da Covid comunque permette ancora tristezza. E proprio sul fronte Covid, la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, ha nominato l'IZS dell'Abruzzo e del Molise e dell'IZS delle Venezia centro di referenza FAO per i coronavirus zoonotici, ovvero quei coronavirus trasmissibili dagli animali all'uomo, come il SARS-CoV-2. Abbiamo imparato a conoscere i coronavirus e quanto è importante sorvegliare, dal punto di vista genomico, in primis, i coronavirus che circolano gli animali e il loro potenziale infettivo nei confronti dell'uomo. Infatti con la FAO la nostra mission sarà quella di andare a sorvegliare nelle aree dove c'è promiscuità tra animali selvatici e uomo i coronavirus che circolano nell'interfaccia uomo-animale, appunto perché potrebbero essere quelli che in un futuro prossimo potrebbero dare problemi di nuovo in sanità pubblica.